Salve cittadini italiani. Salve cittadini italiani. Guerre, sfruttamenti, abusi e violazioni della privacy sono all'ordine del giorno per i governi corrotti, che bramano sempre più potere. Il collettivo Anonymous, ormai da moltissimi anni, ha deciso di opporsi a tutto questo, adottando un metodo, di protesta non violento. Lo abbiamo fatto, dichiarando guerra al sistema. Unisciti a noi. Non devi essere un hacker se vuoi un cambiamento. Non solo su internet accadono le cose. Tu sei il cambiamento, non aspettare che qualcuno faccia le cose per te, nessuno farà qualcosa per te. Se vuoi qualcosa, se davvero la desideri, vai a prendertela. È ora di alzarsi dalle comodità della società, è ora di agire. La rivoluzione della coscienza è già in atto nel mondo, ed ora contano tutte le voci. Sii tu stesso in media, crea i tuoi canali personali in rete, fai arrivare le tue parole ai tuoi compagni di battaglia e anche ai tuoi nemici. Le piazze, i luoghi comuni e le strade saranno i nostri media. Partecipa, accenditi, sii un attivista anonimus e un artista di strada. Anonimus Italia annuncia, operazione reborn iniziata. Noi siamo anonimi. Noi siamo legione. Noi non perdoniamo. Noi non dimentichiamo. Aspettaci. 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 Aspettaci.